Ciao ragazzi e ciao ragazze e benvenute in questo nuovo video Oggi siamo qua con spacchettamento album 14 Ma all'interno ci sono dei prodottini Il regalo per me sicuramente con il fatto che avevo acquistato le anteprime di Natale Quindi iniziamo subito I pacchi sono 3 e sono 14,5 kg di prodotti Quindi iniziamo Allora sul primo scatolone Troviamo alcuni prodottini Allora troviamo Questo era una promozione di alcuni volantini 3 struccanti occhi da 200 ml 2 da 200 ml e 1 da 100 ml E questi venivano 9,95 Come venivano 9,95 anche i 3 deodoranti Quindi 1, 2 e 3 Questi qua sempre 9 euro E 95 sempre per la promozione del volantino Poi qui abbiamo una busta Una borsa Logata Yves Rocher Che adesso non mi ricordo per cosa era Non so se è per me Per qualche adesione O dovuta da qualcos'altro Ora non ricordo Però spero che sia per me Perché mi piace tantissimo Poi per me Ho acquistato due detergenti Ho approfittato della promozione di album 14 Due detergenti Questi sebovegetal pure Con all'interno lo scrub Se mi seguite su Instagram Sapete perché Vi lascio il link qua sotto in descrizione Poi mi hanno ordinato Sotto il periodo di Natale Due confezioni da 4,95 euro Una ai frutti di bosco E poi dovrebbe esserci anche l'altra Mela e cannella Poi qui troviamo 4 creme mani Perché c'era la promozione Anche qui Una crema mani E due gel Igenizzanti A 9,95 euro Mi sono stati ordinati Quattro set E quindi qui ci sono Quattro creme mani Appunto Poi abbiamo Una crema corpo Questa qua Freschezza E qui poi ci sono Album 15 Con alcuni campioncini E le classiche ricevute Poi Sull'altro pacco invece Abbiamo un po' di Scatole e scatoline Perché Qui abbiamo due set Che mi sono stati ordinati Delle creme mani Queste qua che me le ha ordinate Sempre una mia cliente Come regalini di Natale Ecco qua Questi due Poi 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 Qua sotto Qua abbiamo un po' di scatola E ma le apriamo dopo Qui abbiamo Altri cataloghi di Natale Album 15 Poi qui ci sono Ecco I gel Igenizzanti 2 4 6 7 8 Poi mi sono stati ordinati 4 bagno schiuma Questi qua Monoi Sempre dalla stessa cliente E qui appunto C'è l'altro cofanetto A 4 euro e 95 Mela E cannella Però Questo qua Arancione A me piace moltissimo Piacciono tantissimo Queste piccolissime confezioni Poi 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 Adesso Tolgo questo qua Se riesco Vi faccio Andiamo ad aprire Gli scatoloni Allora Il primo scatolone Che voglio aprire con voi È questo qui Mi è stato ordinato Da una cliente È la prima volta Che lo vedo Quindi lo apro Piano 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 Con voi Perché poi lo devo Appunto dare alla cliente Ma devo fare comunque Un pacchettino Quindi lo posso Tranquillamente Aprire Ed è il bellissimo Calendario Dell'avvento Non l'ho mai Acquistato Né per me Né per nessun altro Non mi era mai stato richiesto Quest'anno È il primo anno Che mi è stato richiesto Ed è Assolutamente Bellissimo Mi sto pentendo Di Non averlo Acquistato Però Ci sono All'interno Alcuni prodotti Che io ho E quindi Per evitare Di andare incontro Ad uno spreco Di prodotti Non Non mi va Di acquistarlo Ecco Semplicemente Per questo Se no Ovviamente L'avrei acquistato Poi c'è Anche questa scatola Invece Che questo È appunto Un regalo Per me Invece Che Aprirò Su Instagram Quindi Vediamo un po' Chi mi segue Ve lo faccio vedere Lì Come ultimo Pacco C'è questo Che non so Che cosa sia Pesa molto Però non so Che cosa sia Perché i prodotti Che avevo ordinato Sono Già Sono tutti questi qua Ma penso che ci siano Soltanto gli album Sì esattamente Perché pesava Perché pesava veramente Molto Basta Con questi album Vi prego Io non so più Dove metterli È uno spreco Mandare tutti questi album Io li butto via Perché sono troppi Cioè Non lo so Faccio anche Un volantinaggio Però Dopo un po' Sono sempre quelli In più Adesso non posso uscire Quindi non so A chi darli Basta con questi cataloghi Perché è uno spreco Secondo me Almeno Cioè Li mandate una volta Basta No però Quindi Questo è tutto Per questo Video Vi ricordo Di venirmi a seguire Su Instagram Perché apriremo Questo calendario Insieme Vi mando Un grande bacio E ci vediamo Al prossimo video Ciao ciao